Same, leader mondiale nella meccanizzazione agricola, leader in Europa nelle quattro ruote motrici. Same produce 30.000 trattori, 40.000 motori diesel raffreddati ad aria, oltre 400 miliardi di fatturato, più di 60 modelli e 120 versioni esportati in 80 paesi del mondo, costruiti per ogni esigenza e per ogni tipo di terreno e di cultura. Same, leader mondiale nella meccanizzazione agricola. Chi è con Same è più avanti.